buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 31 dicembre 2020 ultimo giorno dell'anno ultima rassegna di questo anno che se ne sta per andare e allora cominciamo come di consueto con il santo poi vediamo il tempo di oggi e naturalmente i giornali oggi è san silvestro primo il è stato un papa il sole sorgerà alle 7 46 e tramonterà alle 16 e 42 allora queste ultime ore dell'anno vediamo come trascorreranno dal punto di vista del tempo avremo un cielo parzialmente nuvoloso con aumento della copertura in serata non si prevedono fenomeni degni di nota ad eccezione di qualche isolata breve pioggia in serata sul pesarese per quanto riguarda la giornata del primo dell'anno domani il primo gennaio 2021 sarà caratterizzato da possibili brevi ed isolati fenomeni a ridosso dei rilievi che come vedete dalla grafica saranno anche nevosi mista insomma pioggia mista a neve ma siamo in alta montagna per sabato 2 gennaio ancora possibilità di deboli locali fenomeni nelle zone montane per il resto insomma non c'è nulla da segnalare qualche condizione di stabilità anche su rilievi almeno fino ai primi giorni della prossima settimana ma di questo ne parleremo sabato mattina il 2 di gennaio quando torneremo per la rassegna stampa e adesso iniziamo a vedere i giornali con il corriere adriatico edizione di pesaro che a centro pagina pubblica la foto notizia che richiama poi un'intervista che troverete a pagina 2 e 3 del quotidiano un'intervista con il governatore al governatore delle marche francesco acquaroli il quale dice prima i vaccini poi cinque anni per la rinascita per rinascere sulle scuole invece patto contro i contagi la richiesta dei dirigenti dell'area vasta in vista del ritorno delle elezioni per metà in presenza la usc mentre sulla questione sulla vicenda brutta vicenda delle usc aggredite quelle due donne aggredite sono le due due infermieri insomma due operatrici che stavano erano andati a fare dei tamponi a casa di una donna di una persona e due uomini vedremo poi si sono avvicinati questo successo a fano si sono avvicinati chiedendo chi fosse questa persona malata insomma volevano starne alla larga in qualche modo però sono andate un po fuori di testa e lo vedremo tra poco un brutto episodio che speriamo non riaccada ma non denunceremo dicono i medici poi da san silvestro la befana tra zona rossa e arancione ricordiamo a tutti se mai ce ne fosse ancora bisogno che oggi 31 siamo in l'italia è in zona rossa e sarà così fino al 6 gennaio con l'unica eccezione del 4 gennaio con un rapido stop and go con il colore arancione dunque da qui al 6 saremo tutti rossi tranne il 4 che come ormai sappiamo sarà arancione santa veneranda siamo a pesero il racconto di chi abita lì vicino dopo l'incidente mortale in autostrada del camion che ha preso fuoco l'autista morto a santa veneranda la miere dappertutto dopo il tragico rogo poi a urbino articoli a rischio per la salute scatta il sequestro botti da vietare i comuni vanno in ordine sparso poi il distretto biologico delle terre marchigiane che è già realtà ieri mattina a dorciano di pesero nella sala consigliare del comune di terre rovedesca è stato nominato il consiglio direttivo tappa fondamentale del progetto ideato e portato avanti dalla neopresidente sarah tomassini dunque è nato il primo direttivo adesso andiamo invece sulla prima del carlino di pesero la fotonotizia è per l'addio all'anno terribile la pandemia in provincia ha ucciso 667 persone tutti gli eventi del 2020 poi attenzione i cenoni il cenoni di questa sera cenoni allegri cosiddetto allegri a rischio controlli il prefetto il prefetto di peso urbino dice e avverte se ci segnalano riunioni nelle case senza il rispetto delle regole anti covid interveniamo e poi acquaroli che ammonisce furbetti serve prudenza la terza ondata ora sarebbe pesantissima quello che dicevamo ieri mattina proprio in rassegna stampa facciamo attenzione perché non è detta che poi dal 7 le marche con questi numeri possano tornare ad essere gialle quindi anzi siamo proprio al limite come si dice e bisogna davvero usare la testa in queste in questi giorni ancora in cui siamo in zona rossa finito lo tsunami parla il primario nudi di pesero lo tsunami che ha coinvolto gli ospedali fanno il pesero di lunedì al pronto soccorso si torna a respirare poi anche qui infermiere usca aggredite volevano sapere chi è la positiva e dunque c'è stata questa aggressione molto verbale ma insomma per per un attimo non si è sfiorato l'aggressione si è sfiorata l'aggressione fisica poi c'è la storia sempre dal carlino di pesero di una tabaccaia tifosa che lascia e va in pensione dopo 54 anni vinti 100 mila euro ma nessuno li reclama vedremo nel dettaglio magari guardate nelle tasche in qualche cappotto se c'è qualche qualche cosa che è rimasta lì da qualche parte perché ci sono 100 mila euro che nessuno sta reclamando andiamo invece adesso sempre dalla pagina della prima del carlino in fondo l'incidente con esplosione in A14 il camionista è morto schiacciato dal suo tir mentre la VL prova a resistere poi sbatte sulla Virtus la VL che è stata sconfitta allora ripartiamo da pagina 4 del resto del carlino l'Italia si ricolorirà di giallo le regioni lo sci parta chiede chiedono che lo sci riparta il 18 di gennaio dopo l'epifania rischiano l'arancione solo Veneto Lombardia e Puglia mentre l'istituto superiore di sanità chiede di mantenere il rigore chiesto rinvio dell'apertura degli impianti allora andiamo a vedere velocemente ma nel dettaglio che cosa potrebbe accadere nei prossimi nei prossimi giorni allora intanto per quanto riguarda lo sport vedete piscine e palestre resta la sospensione le chiusure di piscine e palestre scadrà il 15 di gennaio ma il rinnovo della sospensione appare molto probabile al vaglio pure l'ipotesi di contingentare gli ingressi e impedire l'accesso agli spogliatoi anche in questo caso sono decisivi in qualche modo i dati epidemiologici che arriveranno dopo l'epifania mentre per quanto riguarda gli spettacoli cinema i teatri resteranno chiusi molto probabile anche qui che da metà gennaio insomma non ci saranno spettacoli all'aperto nelle sale teatrali concerti cinema eccetera eccetera musei e mostre porte anche qui serrate non c'è niente da fare dubbi anche sulla riapertura al pubblico di mostre e musei mentre per quanto riguarda la montagna abbiamo detto vacanze sulla neve c'è lo slittamento in vista le regioni hanno chiesto al governo di fissare al 18 di gennaio la data per la riapertura degli impianti sciistici invece del 7 gennaio come stabilito solo nelle regioni a zona gialla richiesta che incontrerà il favore del cts che aveva invocato maggiori garanzie di sicurezza e poi le scuole scuole di cui si parla ormai da diverso tempo il ritorno in classe dal 7 gennaio anche soprattutto per gli studenti delle scuole superiori ma non sarà al 75 bensì al 50 per cento degli studenti quindi va da sé che qualcuno potrà andare a scuola in presenza l'altra metà invece resterà a distanza quindi con la didattica distanza a casa per quanto riguarda i bar e ristoranti l'apertura dopo le ore 18 è molto davvero molto improbabile l'argomento non è stato ancora ufficialmente affrontato ma restando in vigore il sistema dell'italia divisa per fasce di rischio quindi con le colorazioni appare difficile che a gennaio i locali situati nelle zone gialle possano prolungare l'attività dopo le ore 18 e purtroppo il bollettino vede in risalita al 9,5 per cento il rapporto positivi tamponi famoso indice rt sapete che 9,5 già comincia a essere al limite l'incidenza dunque ancora alta e di conseguenza ci sarà poco da sperare in questo senso mentre il premier Conte nella conferenza di fine anno ha già messo le mani avanti nel dibattito che divide chi vorrebbe il vaccino obbligatorio e chi no ha messo le mani avanti dicendo in Italia il vaccino almeno per ora non sarà obbligatorio comunque che cosa ha detto Conte che per quanto riguarda la distribuzione del vaccino le scorte cominciano ad arrivare anche a Falconara qui nelle Marche l'aeroporto delle Marche è arrivato e è atterrato un un aereo di HL con le dosi Pfizer d'ora in poi quindi si entra in un regime di distribuzione settimanale e la somministrazione secondo uno stretto calendario di cui ha parlato appunto anche in conferenza stampa quando inizieremo poi dice Conte ad avere un impatto significativo potremmo dire di aver concluso la fase 1 del piano vaccinale quando saranno cioè vaccinate 10 15 milioni di persone ma questo non credo dice Conte che verrà prima di aprile ad ogni modo l'Italia l'Italia esclude la vaccinazione obbligatoria questo ha detto Conte lasciamo che parta la campagna vaccinale vediamo il riscontro che ci sarà al momento non c'è alcun segnale di allarme invece per quanto riguarda i ritardi sulla tabella di marcia qualcuno si era preoccupato lui dice anzi risponde Franco Locatelli dell'Istituto Superiore di Sanità dice al momento non c'è alcun segnale di allarme in merito all'allungamento dei tempi l'Italia sta cercando di acquisire dosi aggiuntive di vaccino da piattaforme vaccinali alternative se non ricordo male i vaccini oltre a quello famoso della Pfizer-BioNTech dovrebbe esserci poi quello di Oxford che però AstraZeneca ha qualche problema lo stanno rallentando anche se poi in Inghilterra invece è stato sdoganato da Johnson quindi anzi Johnson ha detto il premier britannico stiamo spostando cielo e terra per distribuire il vaccino il più presto possibile poi in realtà in Europa lo stanno bloccando negli Stati Uniti lo stesso vogliono essere sicuri insomma qui non è questione di sicurezza del vaccino o meno l'hanno spostato il problema sulla questione delle delle carte bollate quindi di alcuni documenti eccetera eccetera però messa così chiaramente sembra quasi che questo vaccino sia un po' pericoloso per i profani come me e come molti insomma messa così in realtà credo che a leggere bene tra le righe ci sia più una questione politica sapete l'Inghilterra la Brexit si sono staccate eccetera eccetera quindi vogliono come voler un po' penalizzarlo in questo senso comunque sono tutte dietrologie adesso che lasciano il tempo che trovano l'importante è che come tutti auspicano insomma questi vaccini funzionino e arrivino per chi li vuole fare alla svelta ora invece un'intervista sulla pagina di Ancona o comunque sulla Nazionality del Carlino di oggi è con il governatore delle Marche Francesco Acquaroli il quale dice serve prudenza o restano le regole dure il presidente dice se non stiamo attenti il 7 gennaio non torniamo gialle una terza ondata sarebbe pesantissima nessuno faccia il furbetto esattamente quello che dicevo io ieri mattina un po' anche facendomi prendere un po' anche dalla dalla tensione ma l'ho detto proprio con un po' con il cuore dobbiamo essere attenti perché la terza ondata per noi sarebbe davvero la fine e quindi dobbiamo pensarci bene il covid domanda tra le tante fatte dal giornale ad Acquaroli il covid l'ha sfiorata sapete che Acquaroli a un certo punto aveva dichiarato di avere la moglie positiva al covid lui però si è messo giustamente in quarantena poi ha fatto tutti i test è risultato negativo però quindi è stato sfiorato in casa sarebbe disposto a fare prima il vaccino per dare l'esempio la risposta di Acquaroli è una cosa è certa lo farò quindi farà il vaccino credo sia giusto aspettare il proprio turno senza bisogno di dare esempi non posso pensare che ci siano persone che pensano che sia tutta una trappola o che possa fare male ci sono tante cose che non fanno bene alla salute come per esempio le sigarette ma tanti fumano quindi il vaccino è da fare senza troppe discussioni sì è vero presidente che ci sono tanti che paradossalmente pur avendo scritto sul pacchetto delle sigarette che il fumo uccide continuano a fumare però chi acquista un pacchetto di sigarette mette in conto il rischio che poi possa prendersi il cancro ai polmoni o possa morire di qualche altra malattia causata appunto dal fumo che lui libera in maniera libera sceglie di acquistare chi invece fa il vaccino vuole essere certo al 100% che se se lo fa non abbia controindicazioni e non faccia male perché chi lo fa sempre in maniera libera lo fa per essere protetto per non farsi del male a differenza invece delle sigarette che è un rischio calcolato come si dice con i vaccini non dovrebbe essere così anche se è così allora andiamo a vedere invece la questione del cenone qui il a mio parere il prefetto la polla ha dato un giusto messaggio nel senso che a leggerlo bene effettivamente ha accolto nel segno accolto nel segno in che senso andiamo a leggere cenoni affollati nel mirino li controlliamo sui social fantastico io credo che questa sia la minaccia più bella per uno che a volte si fanno le cene stasera qualcuno farà le cene solo per farsi i selfie per pubblicarlo poi sui social minacciarli così nel senso buono del termine ovviamente ma comunque dicendo guardate che se controlliamo anche i social e quindi le fotografie che poi posterete su instagram o su facebook è disarmante e quindi credo che possa avere davvero un bel effetto il prefetto alza la guardia sulle riunioni allegre di questa sera e annuncia la tolleranza zero anche per l'uso irregolare dei botti ora bisogna ricordare per chi avesse intenzione di organizzare qui appunto queste cene più o meno allegre ma speriamo cene sobrie che il dpcm del 18 di dicembre scorso prevede che al nucleo familiare possano aggiungersi non più di due persone non conviventi e qui perché altrimenti poi si rischia di appunto cadere nella illegalità e la spia la faranno anche i social scrive elisabetta rossi nel suo articolo questa mattina come instagram come facebook dove gli riducibili dell'ultimo selfie del 2020 l'anno della pandemia e altre catastrofi potrebbero cadere cedere alla tentazione dunque lasciare in rete lo scatto sulla loro cena troppo allargata oltre i limiti di legge come dire oltre al nucleo familiare poniamo quattro persone mamma papà e due figli poi si vuole invitare il nonno e la nonna va bene nucleo familiare oltre o anche due amici insomma va bene anche non conviventi d'accordo massimo in questo caso sei con una famiglia di quattro quattro più due oppure cinque più due insomma quello che è ma attenzione alla fotografia perché perché se poi scappa fuori che la polizia il carabiniere qualcuno scopre che sul profilo avete postato una foto dove contando e facendo il segnetto scappa fuori che siete in sette in otto è facile che possiate incorrere appunto qualche contravvenzione qualche multa e siccome il selfie il post su facebook su instagram è qualcosa a cui non si può rinunciare questa trovata questo annuncio è davvero una genialata assalto al pronto soccorso ieri altri 73 ormai stiamo in emergenza ordinaria dice il primario umberto gnudi che vedete in questa foto un po così scoperto perché ha una siringa infilzata qua è la si è fatto è la foto che lo ritrae mentre si è fatto vaccinare domenica domenica scorsa durante il vaccino dei c'è stata questa situazione un po difficile nella giornata di lunedì quando il pronto soccorso di fanno e pesero sono andati un po in sofferenza la situazione dice però gnudi è migliorata ma dobbiamo inventarci inventarci di tutto per inventarci tutto in che senso per trovare dei posti letto liberi avere le barelle a disposizione sistemare i pazienti che arrivano perché anche ieri ne sono arrivati 73 73 più o meno con sintomi 17 in attesa 7 a pesero 10 a fanno 56 in carico 29 a pesero e 27 a fanno insomma non è lo tsunami dice gnudi di lunedì scorso quando al pronto soccorso si sono presentate quasi 100 persone parliamo di 97 persone insomma però dice lui viviamo ormai questa emergenza ordinaria e questo questo bisogna stare molto attenti petre invece a fossombrone a proposito di vaccino sono arrivate le dosi sapete che fossombrone è diventato il centro diciamo nel quale arrivano queste queste dosi di vaccino sono arrivate blindate poi dentro un magazzino il carico della fighter scortato da polizia e carabinieri ora è conservato a meno 80 gradi in un centro vicino alla farmacia dell'ospedale il direttore dice celestino bufarini dovremo scongelarle entro la prossima settimana anche agli altri flaconi mentre per chi domani aveva messo in conto di andare a fare due passi al mare pur essendo zona rossa per con la scusa di andare a vedere magari il tuffo di capodanno che è un rituale ormai consolidato soprattutto a pesero con questa tradizione che si rinnova ormai da diversi anni beh purtroppo domani non ci sarà nessun tuffo di capodanno infatti questo bagno che più o meno coinvolge circa una settantina di componenti del gruppo degli omaccioni non ci sarà questo questo appuntamento e dunque tutto rinviato al 2021 incubo rt rischio risalita siamo sul corriere adriatico la pagina 6 del giornale di questa mattina che troverete in edicola deve rimanere sotto l'uno o addio zona gialla torniamo a ripetere più o meno le stesse cose l'assessore saltamartini l'ultimo indice di contagio è arrivato a 0 99 vedete come siamo vicinissimi al baratro all'uno a quel numerino che poi ci 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 mette in serio pericolo perché pensate soltanto a rimanere zona gialla a rimanere zona rossa per chissà quante altre settimane ancora sarebbe per la regione e per tutti un vero disastro preoccupano dice ancora saltamartini i casi nel pesarese il 50 per cento dei tamponi risulta positivo vedete come la provincia di pesero purtroppo non sta facendo il proprio dovere e quando quando ci sono i positivi la colpa non è del virus ma siamo la colpa è solo nostra personale usca aggredito sdegno in città siamo nella pagina di qui parla il coordinatore delle unità fabrizio valeri che dice siamo arrivati ad un punto di non ritorno solidarietà anche dalle autorità cittadine l'assessore cucchiarini dice mi auguro che le forze dell'ordine possano intervenire severamente che cosa è successo velocemente perché siamo in ritardo sentite che cosa dice il coordinatore il medico valeri la psicosi da covid sta iniziando a mostrare i suoi frutti sta iniziando la psicosi parliamo quindi della psiche della mente non parliamo di della febbre siamo arrivati dice lui ad un punto di non ritorno la gente ha perso la testa la gente ha perso la testa dice invece di attaccare chi lavora quindi le due ragazze che stavano andando a fare il tampone a questa donna dentro casa invece di attaccare chi lavora chi va a vaccinare chi va a tamponare se la prendessero con quelli che vanno in giro senza mascherine si assembrano e non rispettano le regole commenta così il dottor valeri l'episodio che si è verificato martedì sera a carrara di fano e parla di questi due uomini che a un certo punto volevano sapere dove erano state chi era questa donna infetta insomma volevano saperne di più perché evidentemente erano impauriti forse pensavano di essere entrate in contatto con loro con questa vicina di casa e quindi volevano avere questa certezza non potevano vivere nel dubbio e quindi ovviamente che cosa è successo che di fronte a tutta questa ridda di domande insistenti le due povere donne dell'USCA hanno detto noi per la privacy non possiamo dare risposte e potete immaginare poi che cosa è successo e tutto i tutti i dettagli li troverete nel giornale di questa mattina il camionista ha perso il controllo poi è rimasto schiacciato dal tir questo è l'altro articolo che troverete sul carlino di oggi a santa veneranda si fa un po' la ricostruzione di questo incidente seguito da un incendio ed un'esplosione in a 14 l'altra sera intorno alle 20 e 30 la vittima si chiamava francesco bernardo 40 anni originario di benevento ma residente a sogliano a rubicone ed era appunto alla guida di questo auto articolato che trasportava di fiuti che poi a un certo punto si è si è incendiato dopo un incidente autonomo la finanza è un incidente che è venuto tra fan e pesaro la finanza sequestra invece 1200 prodotti pericolosi tra questi anche giocattoli bigiotteria e abbigliamento poi da fano l'anno orribile se ne va si festeggia in silenzio dopo tre giorni arancioni con il centro pieno di gente in piazza si torna rosso appuntamento in diretta streaming per dare il benvenuto al 2021 ora riccardo mi diceva che la diretta se non ricordo male alle 11 questa sera no alle 23 alle 11 circa quindi trasmetteremo in diretta alle 23 dal teatro della fortuna quindi se volete festeggiare dal teatro della fortuna di fano con fano tv potete sintonizzarvi alle 23 circa sul nostro canale il canale 17 per vedere appunto questo spettacolo prima invece ci sarà un'altra programmazione poi invece nel pomeriggio a partire dalle 17 30 mi pare 17 30 ripercorreremo tutti i fatti di questo 2020 quindi un appuntamento con la redazione che inizierà alle 17 30 di oggi pomeriggio fino alle 20 e 30 alle 20 e 30 poi trasmetteremo a rete unificate anche noi come tutti gli anni ormai da 15 anni il discorso del presidente della repubblica sergio mattarella andiamo adesso sulla pagina di fano del corriere adriatico la lotta all'evasione fiscale copre l'aumento dell'atari approvato il piano economico finanziario dal più 4 97 si passa al 2,5 ridotto alla 0,3 annuale mentre sotto fondazione teatro della fortuna taglio i contributi ok al bilancio di previsione con il 10 per cento in meno di aiuti avanti ancora in streaming un commovente addio un commovente canto per l'addio a pedinotti dalla pagina di fado del carlino gli amici di una vita hanno ricordato l'hanno ricordato dopo la prematura scomparsa un partecipatissimo rito funebre per rendere omaggio a roberto pedinotti l'ultimo saluto delle persone che ci sono state vicine in ogni momento della sua vita botti invece a pesero non ci sarà il coprifuoco un appello alla responsabilità anche perché è impraticabile la strada delle ordinanze di divieto su tutto il territorio comunale quindi si fa appello soprattutto al buon senso e poi fiamme da un silos aziendale nella zona di via montanelli a pesero nella zona industriale di villa fastigi e poi sempre da pesero chiude dopo 54 anni la tabaccaia bianco rossa tifosa del tifosissima anzi della vl luisa gasparri che passa la mano nel 66 dice avevo anche gli alimentari ancora c'è gente che mi chiede un panino qualcuno invece ha vinto 100 mila euro con il 100 per cento ma nessuno qui si è presentato l'estrazione è stata il 19 dicembre eravamo quasi sicuri che avesse vinto dice lei uno dei nostri frequentatori abituali e quindi che ci avrebbe fatto piacere anche avevamo messo nel frigorifero in fresco delle bottiglie per brindare invece non si è presentato nessuno racconta lei così le abbiamo bevute noi adesso tira il fiato luisa e goditi la vita perché te lo meriti scrive elisabetta ferri sul carlino e poi da urbino bigiotteria e giochi e tarocchi in vendita la finanza sequestra altri 1200 articoli e con questo ci dobbiamo fermare qui perché non c'è altro tempo e spazio per i giornali io vi auguro davvero un buon inizio un buon principio grazie a voi per essere stati in questo 2020 insieme a fan o tv ci rivedremo il 2 di gennaio e davvero con il cuore da parte di tutti noi nella redazione passate trascorrete un buon fine anno ma soprattutto con la speranza che il 2021 sia un anno di serenità di pace di anche di un po di gioia perché ci serve anche quella però ecco che l'importante che ci sia la pace la pace la salute che sono le cose più importanti di tutti un saluto e arrivederci